Lettrici e lettori del Sicilia.it Buona domenica, è la 85esima puntata di Bar Sicilia, Maurizio ce l'abbiamo fatta, siamo... Ma tra l'altro con un altro record, perché nella puntata precedente con Marco Dolcone abbiamo fatto numeri incredibili, quindi grazie, grazie a tutti. Funziona allora sta cosa? Funziona meglio dei treni sicuramente. E oggi abbiamo ospiti, due amici, Fabrizio Ferrandelli e Chiara Guglielmino di Più Europa. Fabrizio Palermitano, Chiara, è responsabile a Catania di Più Europa. Fabrizio, io citiamo del tu per questioni anagrafiche, perché se no io do sempre delle mie ospiti, però siamo ragazzi. Qualcuno diceva che siamo ragazzi. Più Europa. Ultimamente avete fatto un accordo politico recente con Carlo Calenda. La Bonino viene da un percorso radicale a tutti noto. Carlo Calenda è proveniente dal PD di area liberale. Che volete fare? Dove volete andare? Vogliamo dare una risposta e un'opportunità a tutte quelle persone che si piazzano ovviamente all'opposizione rispetto a questo governo. È chiaro che questo governo, conte bis, per quanto ci riguarda è una scenità e ha semplicemente cambiato la maggioranza all'interno, ma rimane lo stesso nella sostanza. E quindi stiamo riunendo intorno a noi tutte quelle forze che non sono sovraniste e che vogliono un'alternativa possibile. Lo stiamo facendo con Calenda, stiamo discutendo con altre realtà territoriali, lo facciamo anche con i verdi italiani. Quindi riteniamo che all'interno della politica italiana chi voglia dire no a questo inciucio, chi non si sente rappresentato dalla Lega e da Fratelli d'Italia, può trovare in un accordo liberal-democratico una possibilità di rappresentanza. Lo stiamo facendo senza riciclare, spesso in politica è facile prendere ceto politico, è quello che sta accadendo in altre formazioni politiche che stanno nascendo, cambiano l'etichetta, cambiano la casacca e trovano gruppi dirigenti. Noi stiamo raccogliendo piano piano dal basso professionisti, militanti, studenti, l'età media della nostra formazione è sotto i 40 anni e noi ci stiamo sintonizzati su un sincero pensiero europeista di chi pensa ad un'Europa politica, ma di chi vuole lavorare solamente sul territorio indipendentemente dagli immediati risultati elettorali. Chiara, ma io vorrei capire una cosa. Bene o male i giovani oggi non si avvicinano più alla politica, perché ritengono o la politica noiosa oppure sempre le stesse facce, comunque non c'è né un linguaggio né un messaggio giusto per coinvolgere e fare sentire i giovani protagonisti della vita politica e della vita sociale. Qual è la molla che voi avete con più Europa per dire ragazzi lavoriamo insieme per cambiare le cose? E' una chiave semplice, cioè essere differenti, perché siamo abituati ad alcuni animali politici sempre gli stessi, sempre anche gli stessi argomenti. Pi' Europa ti dà la possibilità in un contenitore politico innanzitutto di crescere e di portare quelli che sono i problemi di un territorio. In provincia di Catania eravamo la Milano del Sud, ma stiamo soffrendo tantissimo e ci sono temi di cui proprio non se ne parla. Pensiamo al Teatro Vincenzo Bellini, recentemente a Cireale c'è una lotta, non ci saranno più i grandi concerti in Sicilia e stiamo abbandonando... Lo abbiamo scritto anche noi. Stanno abbandonando degli imprenditori, tre grandi imprenditori che hanno portato dei concerti in Sicilia in modo tale che tu non devi uscire dalla tua terra. E questo vuol dire mancanza di turismo. Ci sono degli operai come elettricisti, fonici. Tutto questo viene a mancare in una provincia che invece era forte. Pi'Europa ti dà la possibilità soprattutto di dialogo, di parlare e di non parlare con le stesse persone. Io, Chiara, volevo soffermarmi su quello che aveva detto prima Fabrizio Ferrandelli, a proposito di chi volete aggregare. Quest'area liberale, quest'area democratica, l'opposizione di questo governo, sembra un po' di sentire parlare Matteo Renzi o Silvio Berlusconi. C'è qualcosa che almeno nei termini vi accomuna? Sinceramente no. Noi siamo partiti da uno slogan, sfida la corrente. Questo perché stiamo sfidando... Abbiamo chiuso le finestre per questo. C'è ancora qualche spiffa. Stiamo sfidando in una maniera semplice quella che era ritornare sui territori con chi fa il commercialista, il professionista, chi non è stato mai in politica o con chi è stato amministratore locale anche in piccole realtà. Chi è stato un amministratore in una piccola realtà sa come si amministra, sa quali sono i problemi, ha anche un modo di approcciarsi alle persone in maniera diversa, perché è questo che manca, l'approcciarsi di nuovo al piccolo cittadino che ha anche un semplice problema, quello dei rifiuti, la raccolta differenziata, le strade che hanno dei problemi. Stiamo ritornando a fare politica sui territori, mettendoci quelle che sono le nostre competenze. Però Fabrizio, i territori abbandonati sono. Sembrerebbe... Io parlo per Palermo perché tu vivi a Palermo come me, ma non mi sembra che nelle altre città si rida tanto e si possa essere felici. Ma qua a Palermo sembrerebbe che gli amministratori si svegliano la mattina e pensano oggi l'immondizia la raccogliamo così e non funziona, domani in un'altra maniera. Poi un problema che magari con un po' di pioggia invece della macchina prendiamo la canoa per camminare in città. Sembra che non ci siano soluzioni. Sembra che chi amministra oggi la città capoluogo della Sicilia non abbia minimamente idea di un programma per portare a termine le cose. Non è una questione politica, è una questione dei risultati. I risultati oggi sono pessimi. Voi siete altri, se mi permetti il termine, chiacchieroni o avete un progetto per questa città vero? Devo dire che su questa città il progetto c'è ed è un progetto per quanto mi riguarda antico. Quindi più Europa gioca una partita più facile perché essendo stato candidato sindaco ho la risposta progettuale ai tanti problemi di questa città. Tu dicevi che si svegliano la mattina, io a volte credo che si svegliano il pomeriggio o anche un po' più tardi e sono in ritardo rispetto ai problemi della città. Poi abbiamo un sindaco, e mi riallaccio a quello che diceva Chiara, che nel bene o nel male, anche nei dati positivi che ha portato a questa città, comunque è sempre lo stesso sindaco dal 1985. E quindi quando tu ad una società cambiata, ad una velocità diversa, dai le stesse risposte da 30 anni e chiaro che sei fuori di tempo e sei probabilmente non allineato a quelle che sono le esigenze, ma anche alla visione. Orlando ha una visione statalista, quasi sovietica, della macchina pubblica, per cui sono le aziende controllate anche dei carrozzoni che non stanno sul mercato, non hanno servizi, non sono efficientate, perché serve anche dare lavoro e occupazione. Io ho un modello di gestione diverso, immagino che i servizi vanno gestiti con efficienza, con efficacia e che il privato non è sinonimo di malaffare, ma anzi può essere un'opportunità per dare servizi al minor costo possibile, mantenendo nelle mani del pubblico invece il controllo e quindi le sanzioni. Ed in generale è quello che stiamo avendo in tutta la Sicilia, lo diceva Chiara, noi stiamo aggregando soprattutto amministratori che per quanto ci riguarda sono di prima fascia, ma sono considerati di seconda fascia, sono sindaci, consiglieri comunali, assessori delle piccole realtà, non vogliamo muoverci raccogliendo deputati nazionali o deputati regionali come fa Renzi, ed è qui anche la grande differenza, ma vogliamo che chi viene dal basso a rapportare le esigenze a un territorio e che magari le ha sperimentate in realtà locali, possa emergere e possa essere un nuovo quadro dirigente, perché se non cambiamo i quadri dirigenti, la nostra è una sfida innanzitutto generazionale, non abbiamo cambiato nulla. Poi la differenza rispetto a Renzi sta che lui è il primo sostenitore del governo, il governo nazionale nasce su un accordo Renzi-Grillo e quindi lui c'è là dentro, noi stiamo raccogliendo chi sta fuori e chi rispetta questo governo a grandi perplessità. A proposito di Palermo, Fabrizio, ti sei candidato due volte a sindaco di Palermo e non ce l'hai fatta, la domanda spontanea è cosa vuole fare da grande Fabrizio Ferrandelli e questo post Orlando, con chi volete costruirlo? Non mi dite con i cittadini, perché è ovvio, i cittadini devono costruire il progetto, però dico, questo centrosinistra a Palermo è ostaggio da sempre di Leo Luca Orlando, nel senso che quando verrà meno il nome Leo Luca Orlando probabilmente evaporerà come sempre è avvenuto, quando non si è candidato, il centrosinistra. E quindi più Europa a Palermo con chi lo costruisce questo post Orlando? Con il centrodestra? Potrebbe essere anche questa una novità. Noi sicuramente siamo in campo, stiamo costruendo e io sono contento di avere dato due volte l'opportunità a questa città di avere un cambio generazionale. Io credo che se Orlando non avesse avuto in questi anni anche un'opposizione, la città sarebbe stata differente e diversa. Poi ognuno ha ciò, non che si merita ciò che vota, per cui la città lo ha votato, c'è rispetto all'elettorato e credo come te che però Orlando non lascerà un futuro. C'è chi dice che Orlando sta pensando alla continuità, al futuro. Orlando non gestirà mai la continuità amministrativa di questa città, uno perché la sta sfasciando così tanto nei conti che non si vorrà prendere la paternità tramite un suo uomo del disastro che ci sarà da gestire dopo. Due perché è nella natura dell'individuo, è una prima donna, è un accentratore, è un monarca, non è un democratico che pensa a costruire una squadra, una rete. E la mia battaglia è stata innanzitutto una battaglia anche interna in una prima candidatura e poi invece una fase molto più matura dopo. Di sicuro io già sono impegnato con i gruppi di Pio Europa a costruire una lista per Palermo perché riteniamo di dover dare gruppo dirigente a questa città nelle forme che riteniamo. Ho provato in tempi non maturi, due anni fa, e mi schiera le carte. Se voi vedete quello che sta accadendo in Italia, dove salta ogni schema, non è tanto diverso da quello che avevo immaginato a Palermo creando però un altro tipo di blocco. Io a Palermo avevo provato, essendo Orlando un unicum nella storia, perché poi lui non è il dominus di una parte politica, lui è il dominus di una città. Orlando in questa città ha tante relazioni e tante cose nel bene e nel male, e quindi blocca gli schemi della politica. Nelle sue liste c'era un po' tutto, l'arco costituzionale. Noi abbiamo provato lì ad aggregare tutte le forze moderate, lasciando fuori... E talmente tanto nelle sue liste che ci sono due assessori che provengono dall'MSI. Sì, quindi ti devo dire, Orlando non è un uomo che ragiona con uno schema tradizionale, noi abbiamo dato una risposta fuori dagli schemi, e forse quello che è accaduto in questi ultimi due anni riabilita anche il senso di quell'operazione che avevo fatto, cioè partendo dalle mie liste civiche, aprire a tutto l'altro mondo liberal democratico, che è quello che sta accadendo, lasciando fuori gli estremi, da una parte la Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra parte la sinistra estrema per provare a dare una risposta alla città. Credo che questo schema sia ancora valido e più Europa sarà in campo e concorrerà a dare un sindaco, una guida a questa città, a partire dalle forze liberal democratiche, come facciamo in Italia, ma con una certezza, la grande discontinuità col passato, perché rispetto a questa gestione non si può essere continuativi, non si può essere che alternativi. Politicamente Palermo, capiamo, un po' dorme, un po' dorme soltanto pensando all'eredità di Orlando, mentre Catania, chiara, è vivace. Catania addirittura, Miciche, più volte ha detto, e secondo me non è che abbia detto una cosa sbagliata, è questa regione molto catenocentrica, e poi ci sono tanti bei leader, tanto sembra che il dinamismo di Salvo Pogliese non sia poca cosa rispetto all'immobilismo precedente, ma poi ci sono tantissimi politici da sinistra a destra, da San Martino a Falcone, allo stesso Pogliese, a Barbagallo, insomma, musumeci, razza, insomma, sembra che Catania sia vivace, particolarmente vivace, nel produrre leader politici, ma poi questa vivacità in che cosa si traduce? Allora, fondamentalmente noi viviamo sotto il vulcano, quindi abbiamo una spinta in più, forse perché siamo etnei, siamo vulcanici, è vero? C'è una bellissima officina, si cresce bene a Catania, però è il problema, quello che sta vivendo... Questo è uno spot per Catania, bellissimo! Il problema che noi stiamo vivendo a Catania e in provincia, tra gli scandali che abbiamo subito, l'università bandita, quando già l'università non ti dà più quella certezza, quel simbolo, tu vai a studiare, invece ce la siamo ritrovati praticamente smantellata. Tutte quelle che erano le nostre realtà imprenditoriali sono quasi tutte in crisi. Quando un imprenditore soffre ed è costretto ad abbassare la saracinesca e siamo tutti, diciamo, piedi piedi, questa non è una bella realtà, perché i nostri politici, è vero che c'è una bella officina, ma sono sempre gli stessi. Come mai da 30 anni non si sono resi conto di quello che stava vivendo il nostro territorio? Come mai gli imprenditori non sono stati aiutati in questi tavoli tecnici? Quindi è vero, siamo molto vivaci, però c'è una sofferenza che si sente e una città come la nostra, lasciata in quelle condizioni a luci spente, non è bello. Io ti vengo ad esempio da un territorio, da Zaffaranetnea, è un piccolo paese, ma è vivo, produciamo il 17% del PIL nazionale del miele, ma siamo completamente abbandonati da un governo nazionale che se ne sta fregando. Il 26 dicembre abbiamo subito un terremoto, ma a chi gliene importa? Cioè noi stiamo facendo una lotta con i lenzuoli bianchi, stiamo protestando, ma a chi importa? A nessuno. I nostri politici, è vero, che stanno facendo? Hanno in questo momento un problema, cambiare la casacca e individuare qual è la forza giusta. Mi pare di capire, Chiara, che non sei molto tenera nei confronti dei tanti catanesi in politica, astri nascenti, che diceva Maurizio, Lars è piena di conterranei tuoi, cresciuti all'ombra del vulcano, dell'Etna, della montagna, della montagna, della montagna, come si dice da quelle parti, eppure a quanto capisco non c'è proprio grande affinità. Ma sul governo musumeci invece, come sta lavorando per voi nell'omo musumeci? Allora, di Militello con di Catania. Ma il governo musumeci, consideriamo sempre l'eredità che ha trovato, non è facile, il governo Crocetta, ahimè, ha sfasciato tante di quelle realtà, che riprendere in mano la situazione. Salutiamo Saru, ciao Saru. Non è così facile. Io sinceramente, non mi sento di dare un giudizio al governo musumeci, ma non perché ha ereditato qualcosa veramente di bestiale, e secondo me ci vuole tempo, e soprattutto ci vuole anche un cambio di mentalità di noi siciliani. Però Fabrizio, diciamoci la verità, andare a governare questa regione non è facile. Al di là delle varie eredità, e sicuramente quella del governo Crocetta-Renziano, sicuramente non è stata un'eredità facile. Ma come, Maurizio, i Renziani criticavano il governo Crocetta? Eh sì, vabbè, ma sai, la cosa bella... Però erano gli assessori. Con quattro assessori. La cosa bella è che nel governo Crocetta, c'erano gli assessori di Renzi e Faraone, e allora non risolvano le cose. Oggi che c'è un altro governo, hanno le soluzioni, ma perché non le mettevano prima? È una cosa strana. Però bisogna dirci anche una cosa, i vari governi nazionali della Sicilia, realmente, diciamo, al di là del colore politico, tutti, la destra e la sinistra, se ne sono sempre fregati. Io, nell'ultimo bar Sicilia, molta gente ha detto che era contenta, perché ho detto, io sono orgoglioso di essere siciliano. Non mi sembrava una cosa strana. Io sono veramente orgoglioso di essere siciliano. E con estrema serenità posso dire che è sotto gli occhi di tutti, che da destra e a sinistra, i governi nazionali, hanno sempre pensato alla Sicilia, più come un fastidio, che come un'opportunità. Ma allora, cosa bisogna fare? Bisogna credere in una nuova autonomia, in un nuovo statuto? Perché nascolti questi movimenti? Oppure c'è qualche cosa che bisogna fare per uscire fuori e fare capire che qua c'è la seconda regione d'Italia che merita attenzione? A me piace molto questa domanda, perché è posta ovviamente bene e soprattutto è prospettica. Innanzitutto, apprezzo l'onestà intellettuale di Chiara. È vero, dare un giudizio su chi viene dopo lo puoi dare a partire da quello che c'è stato prima. Io mi sono addirittura dimesso da parlamentare regionale, proprio in polemica col governo Crocetta e soprattutto nei confronti anche del Partito Democratico al quale ero iscritto, perché anche lì, in quell'occasione, c'era il governo nazionale dello stesso colore del governo regionale. Il governo nazionale aveva imposto con aria renziana degli assessori e quindi c'era una maggioranza, però per la Sicilia non soltanto non cambiava nulla, i problemi non venivano date risposte e i siciliani erano sempre più abbandonati, motivo per il quale io ho ritenuto una volta che era stato tradito il programma e l'impegno che avevamo preso con i lettori, non potendolo portare avanti e non trovando la maggioranza per le dimissioni, quantomeno di revocare e rimettere il mio mandato. È pur vero che non esiste un gruppo dirigente siciliano in Italia che faccia valere le ragioni di una delle realtà più belle che noi abbiamo sul territorio e lo vediamo in che cosa? In infrastrutture, noi vediamo che tutte le finanziarie nazionali stanno destinando milioni di euro per il potenziamento delle strutture ad esempio ferroviarie centro-nord Italia e quindi gli investimenti vengono spostati lì, i poli produttivi vengono spostati lì, il compromesso che si è trovato prima era la cassa per il mezzogiorno per dare 4 lira a questi cafoni e non portare sviluppo, adesso il compromesso che si è trovato è quello di dare il reddito di cittadinanza al sud così da far poltrire ancora di più il nostro tessuto cittadino e di spostare invece i grandi investimenti al nord. È il motivo per il quale io ho deciso anche a seguito delle esperienze politiche che io ho fatto, io sono uno giovane ma che ha navigato, che ha fatto anche cazzate e che ne ha comprese alcune piuttosto che seguire gli andamenti di mettermi in gioco per costruire una mia linea e costruire addirittura un partito che è cosa non facile perché lo devi costruire in tutto il territorio e sfidi le difficoltà oltre che la corrente di fare un partito ma la mia vera sfida è quella di creare oggi da componente della segreteria nazionale di più Europa ho l'opportunità di farlo un contesto ed una rete nazionale in cui le ragioni dei siciliani valgono all'interno dei palazzi istituzionali perché il tema della continuità territoriale è un tema di gruppo dirigente come possiamo dire di aver allevato decine e decine di politici ma un biglietto aereo da e per la Sicilia continua a costare dalle 250 euro quando ti va bene alle 400 euro se tu hai l'esigenza di spostarsi chi lo paga? Lo paga il PIL perché quando un professionista un imprenditore un commercialista deve spostarsi nel foro di Milano piuttosto che sul foro di Roma o a una riunione di lavoro se sei un imprenditore che sta da caserta in su prendi anche un frecciarossa all'ultimo minuto sei interconnesso e puoi farlo trovi dei voli che ti riescono a dare un'alternativa ti muovi anche con i mezzi di trasporto su gomma se sei in Sicilia sei fuori dal mondo ed è un costo in più che è stato quantizzato in circa 10.000 euro l'anno a persona a siciliano e quindi questo poi pesa nel conto economico di una ragione ma il tema qual è? è la politica ecco noi vogliamo rappresentare io personalmente mi pongo come allenatore di un nuovo gruppo dirigente che credo faccia valere meglio di altri e sicuramente con più energia e freschezza le ragioni il mio aver navigato lo dicevamo ieri nel lancio dell'apertura dove andrò qual è la collocazione? proprio perché come tanti giovani che è nato dopo il crollo del muro di Berlino che è nato in un'epoca io sono dell'80 sono nato in un'epoca in cui i parlamentari non venivano più selezionati col voto di preferenza ma c'era una legge elettorale che era il porcellum decidevano i partiti per altri le segretarie politiche crollavano i partiti politici avevano chiuso le sezioni per chi come noi all'istinto del bene comune e dell'impegno sociale io e Chiara l'abbiamo maturato nello scautismo è così che ci siamo conosciuti negli anni che è poi diventato impegno civico che è poi diventata politica non trovano luoghi in cui puoi esprimerti puoi coltivare le passioni e puoi anche imparare delle cose ecco noi ci candidiamo innanzitutto ad essere questo sapendo però di essere dalla parte dei territori sì ma anche dei diritti e quindi ci siamo dati un confine e abbiamo costruito una forza politica plurale proprio perché riteniamo che si può provenire da sensibilità diverse ma si può arrivare a risposte comune e a progettualità condivise una domanda secondo te quanto durerà il governo nazionale voi avreste preferito restare con questa legge elettorale siete d'accordo al taglio dei parlamentari e alle modifiche che stanno per avvenire anche suggerite un po' dal PD noi eravamo contrari e siamo tutt'oggi contrari a questo governo nazionale ci hanno corteggiato hanno provato a darci la possibilità di incarichi anche prestigiosi noi abbiamo ritenuto che questo governo nascesse già morto anche perché si è cambiata semplicemente la maggioranza ma non diciamo non c'era una spinta e soprattutto non si ferma un avversario non combattendo sui territori e con le idee e come vedete questo governo nasce dall'accordo fra Renzi e Grillo subito anche un po' da Zingaretti per fermare Salvini che invece come vedete insieme alla Meloni e voi lo pubblicate costantemente non soltanto non si è arrestato sta crescendo perché la gente giustamente noi ogni settimana diamo conto dei sondaggi la gente giustamente si incazza perché dice avete bloccato comunque la possibilità democratica di scegliere chi ci governa noi continuiamo a maggior ragione visto lo spaccio che state combinando a dare fiducia agli altri quindi noi siamo convintamente fuori eravamo per nuove elezioni siamo oggettivamente contrari al taglio dei parlamentari perché riteniamo che un taglio senza una modifica costituzionale sia una vergogna per i territori potremmo dimezzare gli stipendi noi siamo oltre noi dovevamo dimezzare gli stipendi e chi ve lo dice è uno che ci ha rinunciato da deputato regionale che si è dimesso prima di poter maturare la possibilità del vitalizio potremmo dimezzare gli stipendi parlamentari era una battaglia giusta ma lasciare interi territori come la Sicilia senza rappresentanza perché con questa legge elettorale accade che diminuiscono i rappresentanti e a pagare paradossalmente il prezzo maggiore della scarsa rappresentanza della Sicilia sia una vergogna ecco io scommetto visto che questo governo è già nato morto che nei prossimi mesi si andrà alle urne ma ce lo dicono le finanziarie ce lo dicono i dati ce lo dice l'andamento del peso probabilmente ce lo diranno non soltanto le scorse ma anche le prossime elezioni regionali potremmo dire anche l'improvvisazione che abbiamo visto nelle scorse ore su Taranto dai sull'Ilva stiamo parlando di decine di migliaia di persone se non hai un'idea di sviluppo e di peso lo applichi lì all'Ilva e al Taranto è meglio che ti ritiri devo dire tanto di cappello al presidente Conte che si è presentato davanti agli operai dell'Ilva dicendo la verità io non ho ricette se qualcuno può fare qualcosa alla faccia però è un'ammissione di impotenza è gravissimo che il presidente del consiglio dice non ho ricette ditemi voi cosa doveva fare e poi chiede pure ai ministri portate delle proposte nelle varie transmissioni i ministri dicevano ma io che proposte devo portare ragazzi sono arrivati se andiamo a votare se andiamo a votare cara a cara l'anno prossimo e comunque preparandoci per i cambiamenti bisogna vedere cosa dire è come dire viviamo in un mondo ormai social dove c'è stato il grande boom anni fa dei 5 stelle partito nato sui social oggi con il cambio di gestione dell'informazione ormai la carta i giornali di carta pressoché sono quasi defunti la gente si informa tramite il web tramite social appunto per questo tra l'altro faccio un piccolo spot privato per dire che il nostro gruppo social il sicila puntetti su facebook ormai insomma siamo alle migliaia di persone e lì mettiamo tante notizie che magari sul giornale non ci sono comprese tante fotografie e tante altre quindi è uno spot Alberto lo diciamo iscrivete a questo gruppo facebook nostro del sicila puntetti e siamo anche un unico giornale presente su tiktok e anche lì ci sono delle cose particolari dei video originali però volevo chiedere a chi era questo nell'era dei social comunicare diventa veramente impegnativo perché si si arriva subito però bisogna vedere a quello che si dice perché si può fare tanto ma si può perdere anche tanto il linguaggio che voi volete attuare qua in sicilia dove c'è tantissima comunicazione social magari tanta buona e tanta brutta qual è come li utilizzate questi social ti faccio un esempio i social come sono stati gestiti se facciamo taglio il movimento 5 stelle dice taglio dei parlamentari pubblicandolo facendo una propaganda politica la gente bellissimo c'è taglio si risparmia no utilizzare i social ma sempre con una chiave di lettura portando gli argomenti perché se il governo è fatto di azioni ma è fatto anche di frasi quindi la nostra sfida è anche non solo perché ci stiamo mettendo la nostra faccia ma la sfida è in quelle frasi in quanto tu tempo lo vuoi realizzare non con la propaganda politica anche perché la gente è stanca e lo vedi come vota non vota più per un'ideologia perché ci credo ha votato per il reddito di cittadinanza perché voleva il sussidio perché c'era la crisi aveva bisogno di un aiuto ma ora la gente dopo questa buffonata e questo governo che praticamente sono due fidanzati che un giorno vanno d'accordo un giorno litigano poi c'è la pausa di riflessione c'è anche l'amante che è Italia Viva è pesante gestire una situazione di queste la gente ha bisogno sì sui social però con le frasi e col tempo di risposta la velocità di esecuzione in cui tu vuoi dare risposta è questo che secondo me crei credibilità e ti riaccrediti anche all'Europa come uno stato serio bene noi ringraziamo Fabrizio Ferrandelli e Chiara Guglielmino di più Europa a proposito di social potete seguirci dappertutto noi siamo su tutti i social su LinkedIn su Twitter su TikTok da poco forse abbiamo anticipato pure Salvini abbiamo visto che è sbarcato pure lui sul TikTok quindi qualcuno guarda a lungo insomma tutti i social su Instagram ovviamente su Facebook poi diteci voi qualche altro social ci verremo pure insomma siamo dappertutto e questa è una minaccia ringraziamo sempre voi lettrici e lettori del Sicilia.it scriveteci molte delle domande che vi abbiamo fatto lo dico spesso sono i lettori che ci scrivono che ce le suggeriscono all'indirizzo di posta elettronica bar Sicilia chiocciola il Sicilia.it ancora buona domenica a tutti ciao grazie